salve a tutti un caro saluto da francesco e con oggi andiamo avanti sulle considerazioni generali della valutazione e sulle griglie di valutazione che essenzialmente sono i contenuti che mi sono stati uguali insomma avevo detto che avrei aggiunto del materiale ricordo insomma che i voti numerici attribuiti alla valutazione quadrimestrale o trimestrale finale sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni la valutazione in itinere riportata dalla scuola secondaria di primo grado comprende sia la valutazione formativa che la valutazione sommativa e se volete ricordare insomma altre considerazioni generali relativamente alla valutazione potete vedere i video precedenti ovviamente in un solo video non riesco a far entrare il tutto ovviamente la valutazione formativa è un processo di apprendimento viene monitorata quindi viene effettuata vengono monitorati gli alunni viene effettuata costantemente dal docente il quale osserva i meccanismi e i modelli che lo studente mette in atto per apprendere che cosa viene valutato? viene valutato sicuramente l'impegno nella valutazione formativa l'impegno due l'autonomia sicuramente la partecipazione quindi quanto la partecipazione attiva dello studente l'interesse e la motivazione che ha e che dà nei confronti della classe quindi interesse e motivazione scrivo qui così che questo argomento forse sarà un pochettino più lungo almeno per quanto riguarda la mia parte che dovrò scrivere e cerco di ottimizzare lo spazio il metodo di studio l'autonomia che lo studente riesce ad avere come apprende con quale e con quale efficacia ed efficienza quindi modalità di apprendimento e che altro sicuramente anche la capacità di recuperare le lacune sicuramente noi dobbiamo valutare qual è il livello di partenza e qual è il target come viene raggiunto il target è ovvio che è molto più difficile arrivare ad un 6 per chi parte da 3 quindi capacità di recuperare per chi deve recuperare e mettiamo così capacità di recupero lo divido per chi deve recuperare e capacità di ampliare le proprie conoscenze per chi sta già a un livello buono capacità di migliorarsi metto di migliorarsi quando scrivo faccio proprio una sintesi aggiungo qua il 9 mi è venuto in mente adesso anche quindi tutti i progressi che ci sono perché se vi è in atto un monitoraggio dello studente ovviamente si può andare a valutare anche come c'è la tendenza ovviamente di tutti i progressi allora linea di massima io adesso darò degli esempi di griglie di valutazione generali su internet sul TOF sulle indicazioni generali ne potrete trovare altre su internet in generale e in linea di massima vanno anche divise per ordine e grado di scuola e io inizio adesso con la scuola primaria poi vedrete non è che c'è una differenza abissale però la differenza in minima parte c'è e quindi non posso fare un'unica casistica per tutti gli ambiti sicuramente partiamo dai voti più belli allora il 10 linea di massima indica che c'è piena competenza che è il massimo ovviamente perché la competenza prevede anche conoscenza e abilità e capacità di autonomia in maniera completa, ordinata, rigorosa quindi possiamo mettere competenza raggiungimento della piena competenza e della piena autonomia rispetto delle consegne, dei compiti eccetera 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 9 adeguata competenza conoscenze sicure sicuramente ovviamente più si abbassa il voto più si scende pure a valutare le conoscenze e le abilità conoscenze sicure buona autonomia e sempre rispetto delle consegne, dei compiti eccetera eccetera scendiamo all'8 mi fermerò ben o male al 5 o al 4 ok? in realtà diverse griglie di valutazione vanno anche più giù però essenzialmente voi potete pensare che cioè io vi sconsiglio di impararvi tutto a memoria cioè sappiate che ovviamente le competenze e l'autonomia saranno sempre un decrescendo con il decrescere della valutazione numerica quindi buon livello 8 lo studente consegue un buon livello di competenza competenza buona si impegna e linea di massima per quanto riguarda la correttezza delle consegne e dei compiti si ha una buona scriviamo buona correttezza sui compiti e sulla regolarità delle consegne insomma e sulle consegne scrivo 7 scendiamo la competenza diventa essenziale i compiti le consegne vengono eseguiti ma si manifesta in certezza quindi incertezza su consegne e compiti 6 sufficienza competenza limitata consegne consegne e compiti quindi imprecisione imprecisioni mettiamo su consegne e compiti mi fermo qui al 5 non raggiungi competenza non raggiunta difficoltà nell'esecuzione di compiti e consegne difficoltà su consegne e compiti benissimo in realtà questo riguarda se vogliamo essere proprio precisi la scuola primaria per la classe prima e per la classe seconda ci sono delle piccole differenze relativamente alla scuola primaria per le classi terza quarta e quinta terzo quarto quinto dieci possesso di conoscenze approfondite contestualizzati rielaborazione personale quindi conoscenze approfondite contestualizzate questo non è facile rielaborazione personale e cominciamo si comincia anche a valutare la capacità di linguaggio e la capacità espositiva quindi possiamo dire esposizione eccellente fluida padronanza lessicale ovviamente la sticella comincia ad alzarsi cioè ci si aspetta molto ma molto di più per uno studente che segue la terza la quarta e la quinta scuola elementare il terzo quarto quinto anno della scuola elementale si riesce lo studente riesce ad applicare le conoscenze in ambiti diversi quindi ottima abilità e capacità di collegamenti ipertestuali scusate ipertestuali perché mi stavo confrontendo perché molti di voi mi hanno detto mi hanno chiesto e ho fatto dei video a proposito sulla differenza interdisciplinare e multidisciplinare comunque capacità di collegamenti interdisciplinari sapete che lo ricordo ancora una volta siamo in diretta live scrivo direttamente penso durante l'esecuzione del video rendo tutto più reale e nel rendere il tutto più reale ovviamente anche i limiti miei si evincono di più non taglio nulla relativamente al video è capitato volte di sbagliare me ne sono accorto e ho lasciato l'errore non non voglio mostrarmi come colui che non sono perché mi piace insomma non nascondere anche le limitazioni che mi riguardano e che probabilmente probabilmente ci riguardano non è che io per una questione di autostima o per una questione di orgoglio personale o per una questione di quando parlo essenzialmente è un parlare con voi ed è un modo di confronto ed è anche un auspicio che io mi faccio ovviamente rispettando anche i pensieri diversi i quali sono sempre benvenuti perché così si ha un confronto però per me è utile sempre ricordare che noi insegnanti che siamo anche dei modelli per gli studenti siamo esseri umani solo colui che non fa non sbaglia mai è ovvio che ogni volta che ci esponiamo siamo esposti anche a degli errori pazienza dobbiamo essere umili dobbiamo cercare di migliorarci dobbiamo cercare di riconoscerci anche negli errori continuiamo nove conoscenze precise già che le conoscenze diventano precise ovviamente sono limitate non limitate cioè sono circoscritte non sono più approfondite quindi le conoscenze ci sono però non è quello studente che si appassiona a tutto che ricontestualizza tutto che fa dei collegamenti e delle rilaborazioni personali di un certo livello buona esposizione soprattutto ci tenevo a rimarcare la differenza tra questo 10 e questo 10 come vedete comincia ad esserci qualcosa di diverso buona esposizione buona esposizione e anche buona capacità lessicale buon lessico capacità di procedure logiche buona motivazione 8 contenuti esatti possesso di conoscenze e contenuti esatti esposizione lineare sa esprimersi in maniera lineare e uso corretto del lessico lo studente riesce ad orientarsi nei collegamenti e riesce ad avere comunque delle lievi non esagerate forme di interpretazione quindi capacità di orientarsi buona interpretazione dei contesti e dei fatti interpretazione 7 questa volta ho ampliato la dimensione della lavagna bianca dello sfondo bianco perché andando a parlare così direttamente delle griglie mi sarebbe sicuramente servito più spazio i contenuti diventano essenziali quindi possesso di contenuti essenziali un pochettino anche qui competenza essenziale contenuti essenziali ovviamente io vi sto facendo un qualcosa vi sto mostrando un qualcosa di completo però in linea di massima non dovrete assolutamente scrivere tutte queste cose è impensabile è pazzesco pensare in una prova scritta di scrivere tutte queste cose cioè magari all'orale se vi viene proprio chiesto ok magari lì sicuramente avrete più possibilità di esposizione però ecco io vi sto andando in conto ad una richiesta ad un'esigenza che è stata richiesta però cioè se io sono sintetico voi dovrete esserlo di più anche perché ovviamente il vostro discorso si limita ad una classe di concorso non è che dovrete preparare le risposte sia per la scuola primaria secondaria o di primo grado insomma contenuti essenziali esposizione pressoché corretta ma non sempre corretta esposizione corretta insicurezza insicurezza cioè buona buona capacità di lessico però insicurezza anche no quindi lessico insicuro però ci sono le potenzialità linguaggio specifico marginale ovviamente non ci saranno grandissime capacità di esporre in maniera estremamente specifica i contenuti essenziali quindi linguaggio specifico limitato sufficiente capacità di collegamento andiamo alla sufficienza al minimo sindacale possesso limitato di contenuti disciplinari limitatezza contenutistica insicurezza nell'uso di linguaggio specifico quindi insicurezza linguaggio specifico poi tanto si sono si ripetono tante parole si ripetono limitata conoscenza limitata capacità di procedure e collegamenti quindi limitazione nella conoscenza e collegamenti scusate per il suono 5 l'acquisizione diventa dei contenuti contenuti frammentari presenza di errori anche nel linguaggio non c'è la capacità l'abilità di operare collegamenti e di applicare procedure quindi limitazione nell'abilità benissimo scuola secondaria di primo grado e qui sempre partiamo dal 10 conoscenze approfondite contestualizzate e contestualizzate capacità di rielaborare personalmente un contenuto quindi rielaborazione personale esposizione fluida e completa padronanza lessicale quindi lessico fluido e completo applicazione delle conoscenze in ambiti diversi capacità di fare collegamenti interdisciplinari conoscenze applicate capacità di fare collegamenti interdisciplinari 9 conoscenze precise vedete come tutto sommato diverse caratteristiche si ripetono nelle griglie in queste valutazioni che vi sto raffigurando conoscenze precise puntuali esposizione corretta scrivo in maniera puntata perché non voglio farvi aspettare tanto perché inevitabilmente per scrivere in maniera dignitosa e veloce ha bisogno di tempo necessito di tempo e punteggiando usando una punteggiatura estrema a breve il tempo tanto voi mi sentite quindi sapete che cosa vi ho appena detto e non c'è bisogno di scrivere la parola per intero esposizione corretta sicurezza lessicale capacità di procedure logiche e motivazione quindi logica e motivazione 8 più vado avanti più userò la punteggiatura perché diversi lessici diverse parole si ripeteranno contenuti generalmente esatti quindi non sempre ma generalmente esatti esposizione lineare uso corretto e personale del lessico la personalità del lessico è importante uso corretto e personale lessicale capacità di orientarsi nei collegamenti quindi collegamenti per pervenire per arrivare a semplici forme di interpretazione dei fatti benissimo andiamo al 7 contenuti essenziali esposizione esposizione non sempre corretta esposizione quindi per lo più corretta mettiamo ma non sempre in sicurezza nell'uso del linguaggio specifico quindi linguaggio specifico in sicuro sufficiente capacità dei collegamenti ovviamente i collegamenti sono difficili e quindi per avere un 7 basta una sufficiente capacità dei collegamenti andiamo alla sufficienza 6 possesso limitato dei contenuti disciplinari quindi contenuti limitati insicurezza nel linguaggio specifico quindi linguaggio insicuro limitata conoscenza di procedure e collegamenti procedure e collegamenti limitati andiamo al 5 dai che un po' di spazio ancora ce l'ho acquisizione frammentaria ovviamente tutto questo lavoro potete poi farlo in maniera specifica per la classe di concorso presenza di numerosi errori errori mancanza di capacità di operare collegamenti collegamenti o mancano sono inappropriati quindi manchevoli e anche le procedure sono limitate 4 acquisizione molto frammentaria acquisizione decisamente frammentaria presenza di errori gravi numerosi quindi sia a livello qualitativo che quantitativo errori gravi numerosi non c'è la mancanza l'incapacità di fare collegamenti e di applicare in procedure anche con la guida dell'insegnante quindi procedure e collegamenti manchevoli anche nonostante l'aiuto procedure e collegamenti inadeguati allora non perché sia meno importante ma i criteri per amere di valutazione dello strumento musicale ovviamente ve lo dico rapidamente a voce perché già cominciano cominciano a parlare di classi di concorso più specifiche ovviamente nel 10 le conoscenze sono approfondite la contestualizzazione sono anche contestualizzate c'è capacità di rielaborazione personale esecuzione fluida padronanza tecnica in questo caso applicazione delle conoscenze in ambiti diversi collegamenti disciplinari fino ad arrivare al 4 dove l'acquisizione diventa molto frammentare dei contenuti presenza di errori gravi e numerosi mancanza di capacità di operare collegamenti musicali e di applicare procedure anche con la guida dell'insegnante poi esistono delle linee guida per quanto riguarda l'applicazione di tali di tale valutazione linee per gli studenti stranieri e le linee guida sono del febbraio 2014 quindi 02 2014 all'unni stranieri poi ci sono anche cioè va valutato se lo studente ne ho arrivato appena arrivato se come affermato nell'articolo 45,4 del dpr 394 del 31 agosto del 99 la valutazione deve essere prevalentemente formativa più che sommativa il consiglio di classe è tenuto a prendere in considerazione tutti o solo in parte gli indicatori quali motivazione partecipazione impegno risultati ottenuti di progressione progresso poi alunni stranieri poi ci sono c'è il decreto ministeriale del 2011 luglio 2011 07 2011 per alunni con disturbo specifico dell'apprendimento e quindi qui addirittura le verifiche possono anche cambiare ricordatevi misure compensative e disposative ovviamente va verificato il certificato di SA che va attestato l'attestato insomma va valutata anche la gravità del disturbo non tutti i SA sono uguali la valutazione va dichiarata va scusa valutata in funzione della dichiarazione del PDP del piano didattico personalizzato quindi vedere anche il PDP ovviamente anche gli strumenti compensativi vanno indicati nel piano didattico personalizzato vengono utilizzati poi per le verifiche nel corso dell'anno poi possono essere il consiglio di classe può decidere se i testi possono essere trasformati con l'MP3 audio se possono usare un lettore umano oppure la sintesi vocale possono soffrire di tempi aggiuntivi oppure di meno domande meno coesiti hanno diritto a criteri valutativi più attenti ai contenuti che ha la forma poi c'è tutto secondo il decreto il decreto legislativo 62 2017 di L 62 2017 c'è tutta un ci sono tante linee guida per la valutazione degli alunni disabili in riferimento al comportamento alle discipline e alle attività svolte sul piano sulla base del piano educativo individualizzato quindi sulla base del pay questo alunni diversa vabbè scriviamo disabili ovviamente se nel quesito che troverete parlano si parla proprio di studenti BES sappiamo che gli studenti BES possono essere sia stranieri DSA e alunni disabili se invece specificano il tipo di studente con bisogno educativo speciale sapete già in maniera più specifica dove orientarvi sicuramente ci sono criteri parametri di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e anche qui si valuta la valutazione ottima distinto buono sufficiente non sufficiente e relativamente alla conoscenza la comprensione all'analisi alla sintesi e alla valutazione ci sono determinati criteri poi ci sono i criteri di valutazione del comportamento valutazione comportamento io per quanto cerchi di sintetizzare di andare rapidamente e veloce ovviamente la valuta l'affrontare la valutazione da un punto di vista pratico sicuramente richiede tempo almeno per avere un'idea di massimo quindi vanno valutati il rispetto delle regole della convivenza civile la collaborazione con i compagni il rispetto dei doveri scolastici l'interesse e l'impegno le eventuali sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'istituto ricordate che alla fine dell'anno viene consegnata alla famiglia una scheda elettronica in formato pdf personale dell'alunno che contiene la valutazione espressa in decimi per ogni disciplina ricordate anche che le indicazioni nazionali del 2012 indicano la certificazione delle competenze quindi ci saranno anche delle schede di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria al termine del primo ciclo di istruzione e anche qua ci saranno degli ci sarà un profilo delle competenze una una parte dedicata alle competenze chiave una parte dedicata alle discipline convolte e un livello il quale potrà essere avanzato intermedio basilare iniziale avanzato se l'alunno svolge i compiti risolve i problemi complessi mostra padronanza nell'uso di conoscenze e di abilità eccetera eccetera intermedio se l'alunno svolge i compiti risolve i problemi in situazioni nuove compi e scelte consapevoli mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite basilare l'alunno svolge i compiti semplici anche in situazioni nuove mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali iniziale l'alunno se opportunamente guidato svolge i compiti semplici in situazioni note ovviamente quando viene certificata la competenza non ci può essere una valutazione inferiore io con questo vi ringrazio e vi saluto vi auguro tutto il meglio possibile nel corso del vostro studio spero che siate abbastanza motivati che siate abbastanza positivi e buona giornata un saluto